se siete appassionati di auto quasi sicuramente avrete sentito il nome project island che non è un nome ufficiale ma è come abbiamo conosciuto finora il restyling della model 3 o anche model year 2024 che proprio qui vicino a me siamo in un evento ad oslo con pochi giornalisti e la possiamo vedere per la prima volta insieme a voi dal vivo vi anticipo già i colori che vedete qui in primo piano sono nuovi questo rosso sostituisce quello precedente e poi c'è anche un grigio che è un po più scuro di quello della model 3 attuale tra l'altro che è parcheggiata proprio qui vicino quindi vi do un piccolo assaggio della differenza e sempre parlando di colori ci hanno detto che per l'italia ci saranno altri tre colori senza sovrapprezzo un po per evitare che per restare sotto gli incentivi ci siano troppe model 3 bianche quindi senza sovrapprezzo il bianco che qua è mostrato con uno dei due cerchi disponibili da 19 oppure il nero che ha i cerchi da 18 si perdono un po di linee però si capisce anche bene come sono le nuove forme più aggressive e poi uno dei miei colori preferiti della gamma model 3 che è sempre blu che qui è esposto con l'interno bianco che è sempre una delle due opzioni disponibili oltre al nero primo dettaglio che poi quello che si vede subito la model 3 ha cambiato gli occhi vedete i fari sono più sottili e orizzontali invece che essere sviluppati e appoggiati sul parafango anche le luci dietro sono cambiate e oltre alla forma vedete è anche cambiato come sono montati rispetto al portone del bagagliaio ne parliamo meglio dopo piccola anteprima degli interni qualcosa non è cambiato come lo schermo al centro e invece forse avete già notato che il volante è molto simile a quello della tesla model s e x ma non è uguale mi hanno detto che hanno spostato il clacson è tornato al centro a farmi riservare questa stanza così riesco a farvi vedere meglio la macchina a cominciare dalle dimensioni poi parliamo di estetica perché questo nuovo stile questo nuovo design esterno ha anche cambiato di poco le dimensioni in particolare due o tre centimetri di lunghezza siamo passati a 4 metri e 72 invece che 4 69 4 e 70 seconda delle dimensioni e tutte le altre quote le altre dimensioni appunto sono rimaste le stesse il passo che state intravedendo la distanza tra le due ruote sempre 2 metri 88 la larghezza invece adesso che passiamo nella vista frontale 1 85 e l'altezza 1 metro e 44 detto questo vediamo un po allora alcuni elementi che non sono solo stilistici come potrete immaginare come su tutte le auto ma maggior ragione su un'elettrica che tra l'altro deve essere il riferimento della categoria questi spigoli che sono stati aggiunti dagli stilisti dai designer hanno migliorato molto l'aerodinamica sono elementi di dettaglio ma anche combinandosi col fatto che il faro non è più a sviluppo longitudinale si sono innestati delle nuove nervature che di nuovo aiutano a guidare i flussi aerodinamici in particolare anche poi mi hanno raccontato che si è lavorato adesso ve lo faccio vedere più di lato su questo andamento del cofano del labbro del cofano e facendovi poi anche un dettaglio adesso mi inginocchio vi faccio poi vedere con una copertura quello che vedo mi dà l'impressione comunque il muso di essere raccordato in maniera più fluida rispetto prima forse dà l'idea di avere un frontale meno caratteristico meno corto rispetto al modello precedente però con un vantaggio in termini aerodinamici che si sintetizza poi anche in uno dei parametri che citiamo sempre il coefficiente di penetrazione aerodinamica che passa da 0,22 in particolare 0,225 a 0,219 quindi più basso di 0,22 che vi ricordo non basta per definire l'efficienza aerodinamica in un'auto però è anche moltiplicato in particolare per la sezione frontale che essendo rimasta la stessa questo vi fa capire come tutta la model 3 restagni di questo model year 2024 sia più efficiente nel suo complesso ci hanno raccontato non solo per l'aerodinamica ma anche per come poi viene gestita l'energia in movimento dal 5 all'8 per cento a seconda degli allestimenti in particolare e ce l'ho qui da far vedere le ruote che possono essere da 18 pollici oppure da 19 pollici come in questo caso sono state ridisegnate se avete presente le 19 pollici delle tesla model 3 precedenti sono simili ma hanno questa parte aerodinamica che aiuta e che dà anche un'idea che la ruota sia più grande e che si può togliere in maniera meno immediata rispetto a prima mentre le ruote da 18 prima un ragazzo di tesla me l'ha fatto vedere me l'ha tolte e sull'auto bianca abbiamo fatto anche questo dettaglio per avere o l'estetica del cerchio oppure la massima efficienza ho qui vicino le telecamere che sono rimaste come numero le stesse se non ricordo male ne abbiamo due sulle fiancate più tre qua davanti sul parabrezza più altre due sul montante centrale quindi abbiamo detto 3 più 2.5 più 2.7 e poi ci sono le telecamere dietro quindi se non ricordo male 8 ma magari qualcuno di voi ha una tesla oppure ha un amico con la tesla e fatemi sapere e questo mi porta a parlarvi anche del cosiddetto hardware 4.0 anche se oggi mi hanno confermato che non è un nome ufficiale all'interno di tesla cioè questa gestione nuova delle telecamere che fa in modo di non utilizzare più i sensori di parcheggio che anche nella tesla model 3 restyling come negli ultimi aggiornamenti della model 3 non sono stati montati sulle auto per andare a risparmiare sì nella produzione ma anche per semplificare nella logica razionale di un marchio come tesla l'utilizzo di questi sensori che però adesso hanno bisogno di un aggiornamento software che dovrebbe arrivare per poter di nuovo dare a chi guida un aiuto in caso di manovra siamo dietro quindi avete già visto il nuovo design dei fari che cambia a livello di grafica ma come vi ho fatto vedere prima è proprio stato montato tutto solidale con il portellone e non più diviso in due come vi ho accennato nell'introduzione quindi aprendo vedete rimane tutto sulla parte mobile della coda mentre scendendo qui vedete è rimasta la fiancata è più pulita ed è anche probabilmente più facile e meno costoso da produrre il portellone avete visto elettrico che è un'altra dotazione che era già stata introdotta se non ricordo male nel model year 2021-2020 però mi hanno detto che è stato aggiunto un secondo motore nei questi attuatori per rendere diciamo più solida e con un feeling migliore l'attuazione siamo sul bagagliaio quindi vi anticipo che è aumentato di poco dietro è passato da 561 litri a 594 litri mentre il frank cosiddetto bagagliaio anteriore è rimasto a 88 litri adesso è un po' buio ma dopo vi faremo qualche immagine in più con un faretto e c'è sempre la bella sfruttabilità di questo vano di Tesla per avere questo pozzetto molto molto comodo per il resto non ho visto altre dotazioni come ad esempio prese elettriche di tipo domestico quindi a 220-230 volt e a questo punto mentre rimonto tutto e mi attrezzo per farvi vedere appunto con le luci meglio le immagini che avete già visto passiamo a vedere com'è fatta dentro prima di parlarvi dello spazio posteriore ascoltate è migliorato il suono perché hanno irrobustito la struttura delle porte laterali per poter resistere meglio agli urti laterali del crash test americano una cosa che non vi ho detto dietro e vi ho fatto dei dettagli il logo testa non è più un simbolo ma è scritto diciamo per esteso con il lettering ed è cambiato anche un po' il paraurti nella parte bassa con delle nuove luci e un diffusore diverso quello che è cambiato invece dietro è un po' la forma del divanetto e è abbastanza evidente lo avrete notato probabilmente c'è uno schermo in più da 8 pollici che può essere utilizzato per l'intrattenimento youtube netflix la musica oppure per comandare il climatizzatore quindi anche qui è un richiamo al restining della tesla model s e model x e poi qua sotto ci sono due prese usb c con una potenza ci hanno detto di 65 watt che è in grado di caricare fino a due laptop e poi tutto attorno sull'auto già a partire da dietro ci sono le luci di ambiente nella zona anteriore ve l'ho fatto vedere nella intro la prima cosa che si nota è che è cambiato il volante con in particolare gli indicatori di direzione qui sulla razza che come sulla model s e model x fanno a meno della leva fisica così come non c'è una leva a destra per selezionare il cambio che adesso non posso farlo vedere perché non ho la chiave viene spostato qua nel touch per marcia avanti o marcia indietro ci hanno detto che sono migliorati i feedback e la qualità del tocco di questi comandi quindi lo vedremo quando la proverò tra l'altro lo anticipo domani quando voi avete già visto questo video la proverò e vedrete anche il video della prova poi qui sulla plancia c'è questo materiale che può essere personalizzato quindi c'è stato anche un'attenzione estetica ma ci hanno detto anche funzionale a livello acustico un po' tutti i materiali cercano di assorbire meglio le onde sonore e in combinazione con tutti i vetri anche quelli dietro sono doppi sono insonorizzati contribuiscono a migliorare l'insonorizzazione dell'isolamento dall'esterno sia la macchina ferma e ovviamente anche il movimento combinandosi con la migliore aerodinamica e anche con interventi più meccanici di cui vi parlo meglio dopo al centro il cosiddetto paddone è rimasto fisicamente nella stessa dimensione ma è aumentata la diagonale da 15 a 15,4 pollici perché è stato reso più sottile la cornice e poi per il resto ha mantenuto l'ecosistema digitale che chi a Tesla ormai conosce con una bella novità che ho chiesto è la possibilità di poter chiudere la bocchetta del passeggero che è un elemento che molti clienti lamentavano quindi per poter così non litigare diciamo se uno ha più freddo o più caldo come su anche altre auto quindi da questo punto di vista c'è stato un miglioramento così sempre a livello climatico i sedili sono diventati ventilati un altro aspetto che era diciamo da migliorare secondo i cosiddetti lamentati dei clienti e poi qua sulla console centrale quello che è cambiato ci hanno detto è che la possibilità di ricaricare wireless è migliorata perché ci sono dei materiali diciamo più pregiati come l'alluminio e anche come è stata costruita a livello proprio di capacità di dissipare il calore è migliorata perché quando caricate wireless il telefono si scalda anche se ho chiesto non c'è una vera e propria climatizzazione bocchetta dedicata la model 3 probabilmente lo sapete è stata la prima auto che veramente ha reso il telefono la chiave senza aver bisogno di avere un altro oggetto per poter aprire e chiudere serrature e guidare è stata migliorata la connettività a volte con la precedente model 3 il bluetooth magari non permetteva ad esempio in certe zone di aprire la presa di ricarica e quindi adesso c'è una connettività a banda larga così come è stata migliorata in generale la connettività per il trasferimento dei dati e la model 3 continua ad avere anche il wifi una cosa che non vi ho detto nell'abitacolo è migliorato l'impianto audio con 17 altoparlanti invece di 14 nuovi amplificatori un nuovo software e in generale questo discorso dell'attenzione all'aspetto acustico si è poi riversato anche nella dinamica di guida perché è stato rivisto un po' l'assetto in termini di geometria all'avantreno di attacchi delle sospensioni alla scocca al sottotelaio e anche avendo quindi migliorato questo aspetto una ridefinizione anche delle boccole perché diciamo che insieme a un miglioramento dell'insonorizzazione e a nuovi sedili uno degli obiettivi sempre per migliorare rispetto alla model 3 precedente era quello di rendere la guida più confortevole in termini di assorbimento ed è un'altra cosa che vi potrò dire domani quando la guiderò sulle gomme che oltre alle dimensioni sono state sviluppate in questo caso con Michelin o Hankook non solo in termini di migliorare l'efficienza ma anche il comfort di nuovo per questa attenzione a rendere la model 3 restyling più comoda in movimento e tutto questo si ricollega poi diciamo a uno degli aspetti che mi aspettavo cambiasse di più di questo cosiddetto project highland di questa restyling che è la piattaforma e la batteria a differenza della model Y non è stato usato il mega casting nemmeno sul retrotreno quindi la pressofusione tra l'altro fornita da un'azienda italiana che è IDRA è stata mantenuta la tecnica di costruzione della scocca più tradizionale che aveva già la model 3 ovviamente andando a migliorare così come la batteria che era un altro aspetto che molti appassionati stavano aspettando non è cambiata sostanzialmente ma è stata gestita meglio quindi le due versioni attualmente disponibili la performance arriverà più avanti sono la trazione posteriore real wheel drive la ex standard range e la long range che hanno la prima sempre una batteria lfp con celle prismatiche della cinese katol 60 kWh mentre la long range a differenza di quello che magari ci si poteva aspettare non è passata questa chimica nuova delle litio ferrofosfato con una dimensione in kWh di 77 kWh 82 l'ordine come adesso ma ha mantenuto le celle tipiche di tesla cilindriche con formato 2170 prodotte o da LG Chem o da Panasonic quindi dai coreani e dai giapponesi con però dei miglioramenti in termini di autonomia dichiarata di consumi proprio grazie a tutto quello che vi ho raccontato finora quindi agli affinamenti dell'aerodinamica e a un'efficienza migliore e quindi parliamo a livello di rear wheel drive quindi batteria da 60 kWh di un'autonomia che passa da 491 km in ciclo combinato VLTP a 513 km con i cerchi da 19 oppure 554 km con i cerchi da 18 anche perché tra l'altro il peso è stato affinato non è aumentato 1761 kg la potenza ve lo ricordo di questa versione con un singolo motore posteriore di 283 cavalli 0-100 in 6,1 secondi e 201 km all'ora di velocità massima invece che 225 questo è un altro segnale che si è lavorato molto sull'efficienza sui consumi stesso discorso per la long range che ha uno 0-100 in 4,4 secondi ma una velocità massima di 201 all'ora invece che 233 con 498 cavalli, 1824 kg e di nuovo vedete l'autonomia ha avuto un miglioramento si è passati da 602 km del modello precedente a 678 km con i cerchi da 18 o 629 km con i cerchi da 19 sempre nel ciclo VLTP la capacità di ricarica anche qui siccome sulla batteria non si è andato a intervenire in maniera sostanziale è di 11 kWh in corrente alternata e 250 kW scusate 11 kW in corrente alternata e 250 kW in corrente continua per la long range con la batteria più grande e con la chimica nickel manganese covalto e invece 170 kW in corrente continua per la standard range, ex standard range rear wheel drive che rimane a 11 kW in corrente alternata per quel che riguarda invece il prezzo c'è stato un aumento di 1000 euro quindi si parte adesso da 42.490 euro per la rear wheel drive contro 41.490 euro e da 49.990 euro della long range che prima era 48.990 euro tra l'altro un'altra curiosità che ho chiesto ai ragazzi di Tesla è la fabbrica dove è stata prodotta perché anche il nuovo restalling della Model 3 arriva dalla Cina quindi per ora non viene coinvolta la fabbrica di Berlino e Fremont rimarrà dedicata alle Model S e Model X e staremo a vedere diciamo come evolverà la gamma per ora è tutto spero di avervi raccontato come è migliorato questa auto così importante e al prossimo video vi potrò dare veramente le prime impressioni di guida grazie